Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Sto pubblicando un video al giorno perché ho diversi video da finire, ho registrato tanto tra ottobre e novembre e quindi sto esaurendo tutti i video che mi sono rimasti in sospeso per quanto riguarda il 2023, ci sono giochi ottimi e buoni giochi, insomma spero vi piacciono, tra cui alcune sorprese. E augurandovi le buone feste, vi voglio anche dire che sto cercando di capire, di pianificare come portare avanti il canale l'anno prossimo, ci sono stati fin troppi alti e bassi quest'anno dovuti probabilmente a giochi magari dalla qualità alta allenante piuttosto che magari da un pubblico che cerca qualcosa che io purtroppo negli anni non riesco a capire, non lo so, vorrei iniziare portando una novità riguardo alle miniature, come ho già detto anche in live, metterò probabilmente una bandierina vicino al titolo del gioco sotto nell'angolino con la lingua italiana o la lingua inglese in modo da far capire subito in che lingua abbiamo il gioco perché sono troppi, tanti e troppi commenti di hai il gioco in italiano perché oppure il gioco non è in italiano, sono in inglese, quando basterebbe magari guardare il video perché alla fine lo dico sempre. e quindi voglio evitare che i miei video diventino una sorta di servizio che la gente vede, molla subito o in cui la gente scrive senza neanche guardare il video, cosa che capita sempre più spesso. quindi vorrei rendere il canale ancora più utile di quello che magari è, portarvi solo il meglio, vedremo, vedremo che cosa arriverà, lo ripeterò sempre, sono amareggiato da quest'anno solo per una cosa. i due giochi indie tra i più belli usciti da Regge e Dave the Diver sono stati sempre negati e gli sviluppatori non mi hanno mai chiesto nulla, contrariamente ad altri che probabilmente erano molto più blasonati e che gli sviluppatori hanno puntato comunque su di me. questo mi dispiace molto, vedremo, vedremo per l'anno prossimo, ovviamente so che questo è un video breve quindi magari lo commenterete, lo vedrete in tanti, scrivetemi sotto che cosa vorreste vedere perché l'esperienza di questo canale è sempre stata quella di farvi vedere un gioco, faccio vedere l'inizio, le impressioni e poi chi di voi si innamora del gioco va, si informa, vede e lo compra. io non ci guadagno nulla in tutto questo però porto l'amico a casa mia, come dico sempre, e gli faccio vedere il nuovo gioco. quindi dato che vedrete questo video magari in più persone perché il video è breve, scrivetemi qua sotto cosa vorreste vedere di nuovo nel canale e non intendo giochi, intendo format, le serie non valgono perché non funzionano sul tubo, ma magari meno video, più video, più video è difficile, meno video, ma magari più strutturati, più scritti, più pianificati magari solo un gioco a settimana approfondito in più punti, non lo so, dipende da voi, da quello che vorreste vedere. date libero spazio alla vostra fantasia qua sotto nei commenti. io detto questo vi saluto e vi ringrazio, vi auguro ancora una volta un buon Natale, buone vacanze e un buon fine anno e un augurio di un bel 2024. con questo è tutto, alla prossima e ciao ciao.